Scusi, scusi, eh fratello, ciao, io qua per lavoro, si ho capito che sei qua per lavoro, ma noi stiamo facendo una serata, stiamo facendo una serata di comici, adesso non è che vuoi venire a rompere le scatole, c'è quattro uccifili da mantenere, dai contendo, dai, Scusi, ma scusa, abbiamo gente, noi dobbiamo finire l'ospettacolo, ma che cosa? Tu credi Rosa, guarda cosa ti regalo io, non è portatile, ma non è portatile quello, sono quattro, no no, no, tanto fu che qua devono venire a rompere le palle, ma la signora non vedi che non arriva a fine mese, figurati se c'è cinque euro, dai, c'è la pensione al due, siamo già finiti i soldi, solo io c'ho rosa tedesca, rosa tedesca, guarda, non conosci dalle spine, vuoi non vuole la tedesca, basta, vai via, non ci interessa niente, ma il signore non vuole la marina, non c'ho le spine, c'ho le libri, ma non c'è bello, dai, non abbiamo soldi, non abbiamo fatto pagare l'ingresso, vai scendino, vai scendino, dai fratello vuoi scendino, vai scendino, ti vento, dai, dai, fratello, dai, io regalo rosa, guarda, il regalo questa, aspetta, ma quante roba hai dentro queste borse? ferma, cuccia, sì, ma chi è quello? sentate, rosa canina, ma no, non c'ho le gambe, ma no, non abbiamo soldi, ma non abbiamo soldi, se tu prendi un'osa da me, non toccare mia roba, ma chi sta toccando l'ente, se tu che sei un casinista della madonna, ho quattro borse, dov'è l'altra, se tu prendi l'osa da me, guarda cosa ti regalo, vuole bustine da zucchero, vuoi taccinare la caffè, vuoi macchinette da caffè espresso, ma basta, solo questo mese faccio 125 rose, 124 euro, ma guarda cosa ti regalo, aspetta, guarda, solo per te, ti faccio un ricordino, anche bello, mia suocera, un ricordino, non vuoi ricordino, mia suocera, è bella, eh, senti, noi dovremmo finire, fiazzati, fiazzati, dimmi verità, quanto è che lui non ti regala la cappella, quanto tempo è che lui non dà cappella, io ho cappella bella, 5 euro che do mia cappella, vuole cappella, vuole cappella, vuole cappella, ma che bella cappella, non sai cappella così grande, mi piace, ma che bella cappella, sapeva, non sai cappella, ma che bella cappella, vuole cappellino, ma non ci serve l'antenna radio 105 radio maria e 7 tr questo prendi tutto basta c'era un bambino ho visto il bambino bambina scusa signora no sono io che squadra sei vuoi il palloncino della Juve che cosa fai adesso hai finito sono le 1 la gente vuole dormire aspetta fratello aspetta non posso dare basta è meglio c'è problema aspetta fratello ma che cosa c'hai c'è pure il post sportabile e poi dicono che non sono tecnologicamente avanzati che cosa tiri un po' fuori e cebu già non aveva la tasca per il cellulare spero che tu almeno hai qualcosa dentro la tappa io non ce l'ho purtroppo se non ce l'ho qua scusa signora scusa signora tira fuori adesso vuole il pallone di Juve e quindi cosa fai io non ho esco signora bene guarda io scusa ma non è l'unico fratello ma sono io gloriosa del motte due pantano e due petali no scusa ma che bella ma è l'unico fratello ma ma cosa vuoi ma dov'è ma c'è che fila cosa c'è ancora dentro queste cose vuoi sellina non vuoi sellina no lo rivoglio lo rivoglio lo rivoglio aspetta fratello fratello aspetta aspetta dov'è facciullo lì ma chi ti piacciono donne con grandi labbra oh madonna ma per favore ti piacciono donne con grandi tette oh no scusa scusa guarda fratello ma c'è guarda cosa vuole poppino cosa mi dite io ce l'ho poppino spiego aspetta guarda qua che ti spiego com'è ma cos'hai ancora detto queste poppino no veramente questo è quello qua prendi palloncino come si chiama ingresso la bocca metti tua punta poi fai avanti indietro fai anche indietro non è poppino guarda fratello che lavoro fai? la proia guarda fratello questo è rivelatore di quanto tu prendi di pensione Giro, di tua professione, schiaccia testa e vediamo quanto prendi, un cazzo, un cazzo, basta, bastone, basta, hai ancora un video, fratello, 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 bastone da selfie, eccolo qua, bastone da selfie, 5 euro, 5 euro, 5 euro, è tutto caro, guarda che roba, hai tirato fuori di tutto e di più, ma che è un drone portatile quello, non è un drone portatile, hai una sveglia senza corrente, è impossibile, non ce l'hai, non puoi avere una sveglia senza corrente, Aspetta, scusami allora, amico fratello, dimenticando, cerchione, 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 cerchione qua, cerchione qua, cerchione qua, cerchione qua, che tanti motoscibili, chi vuole cerchione, cerchione? Sì, ma che cosa se ne fanno di un, è un cerchione, è solo un cerchione, sì, ma è solo un cerchione, ma non è rotto fratello, sono anche i ragi, Bravo, 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 allora fratello, avanza mosche, ma non è rotto fratello, si piaccia noci, ma non è rotto fratello, si piaccia noci, ma non è rotto fratello, si piaccia noci, spingi chiodo, spingi, 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 basta, hai ancora... Allora, io, visto che ti faccio un regalo, ti faccio un regalo, guarda, questo ho fatto io per te, se trovo Penarello che tu le volte sbaglio, buco in fila, non sbagliare, però, per favore, non lo so, da stasera hai il coglione di tu, è Luca, mi chiamo Luca, forse qualcosa ancora, questo ho fatto io per lui col cuore, ciao Luca. Grazie, ma grazie, ma grazie, ma va beh, va beh, per questo va veramente a colpare tutti i buchi che abbiamo avuto, grazie, grazie.